Non è la prima volta che accade, spiega Paolo Morabito ricordando l'avventura di qualche giorno fa in Cilento. Mi è già capitato di dovermi tuffare tra le onde per trarre in salvo qualche nuotatore in difficoltà. Questa volta però accanto a lui c'era la figlia Caterina, sedicenne, fresca di brevetto di bagnino. Quando siamo arrivati a Palinuro erano praticamente gli ultimi due giorni di mare ancora molto forti e siamo andati all'arco naturale di Palinuro e noi ci siamo divertiti a giocare con i cavalloni come fanno un po' tutti. Nel senso che da bravi nuotatori non siamo andati a largo perché era veramente pericoloso. Quindi quando è arrivata questa onda un po' più grossa rispetto alle altre ha proprio falciato questo bambino da dietro portandolo comunque fuori dove sicuramente un bambino di 12 anni non tocca. Il papà ha preso dal panico, si è lanciato anche lui vestito che forse è la cosa più pericolosa che a volte si può fare. Io ho visto subito il bambino, l'ho lanciato subito in acqua per cercare di recuperarlo ma ho fatto veramente fatica a portarlo verso la riva. La Kate che mi ha visto che stava andando verso il bambino si è lanciata anche a lei. Abbiamo preso il bambino facendo comunque fatica perché le onde continuavano a venirci addosso quindi lui per un braccio e io da un altro l'abbiamo portato a riva. Quando lui è riuscito a toccare subito l'ha portato fuori io invece sono rimasta in acqua. Non è stato facile portare a riva padre e figlio e forse non è da tutti lanciarsi tra le onde con la freddezza necessaria per non mettere a rischio la propria incolumità e salvare la vita di chi è in pericolo. Entrambi abbiamo pensato prima a tirare fuori il bambino come un po' tutte le regole insegnano ci siamo dedicati al bambino anche perché il papà sapeva nuotare, era vestito, faceva fatica ma sapeva nuotare. Nel momento in cui è un obiettivo anche in mare non ti rendi tanto conto di quello che hai intorno quindi alla fine ti fici su quello che sta succedendo e su quello che devi fare e lo fai.